da un uomo. Come farti cercare da un uomo? Perché purtroppo o per fortuna molte donne non sono cercate dagli uomini, cioè sperano che gli uomini possano cercarle, sperano che gli uomini possano in qualche modo trovarle, eppure spesso questo non succede, cioè gli uomini non le cercano, gli uomini non le vogliono, e loro restano vinculate praticamente in situazioni che non gli piacciono fondamentalmente. Questo è un qualcosa che capita veramente molto spesso, capita veramente, e quindi se tu vuoi farti cercare da un uomo, devi mettere in atto tutta una serie di strategie, devi mettere in atto tutta una serie di meccanismi che ti permettono di farti cercare. Purtroppo le malgascione spesso quando si innamorano, perché questo è il problema di fondo, vale una regola fondamentale che tu dovresti imparare, e la regola è proprio questa, se tu imparassi a comportarti con le persone che non ti piacciono, con le persone che ti piacciono, con le persone delle quali sei innamorata, come ti comporteresti con le persone che non ti piacciono, avresti già sedotto, avresti già conquistato. Questo è un punto fondamentale che devi prendere in considerazione. Invece non succede questo, tu non fai questo e tu ne pagherai le conseguenze, perché nessun uomo si coinvolgerà con te. Nel momento in cui tu diventi una donna lagnosa, diventi una donna che insegue, diventi una donna bisognosa, ovviamente nessuno si coinvolge con te. Quindi se tu vuoi farti cercare da un uomo, non devi essere tu a cercare lui, e questo è un concetto di base, è un concetto di fondo, perché se tu cerchi una persona, ovviamente, come dire, dai attenzione all'uomo, quindi lui crede di averti conquistata, crede di averti sedotta, cara malgacciona. E invece, invece tu continui. Devi imparare a trattare quelli che ti piacciono come tratteresti quelli che non ti piacciono. E questo è un punto importante, un punto fondamentale. Ma mutatis mutandis, questo vale sia per gli uomini che per le donne, ovviamente, perché poi, come dire, comportarsi dai bisognosi non comporta nessun vantaggio. Invece diventare irriverenti o irriverente diventare una persona che è emotivamente appagata. Questo è il concetto di fondo, perché devi tenere presente che noi abbiamo una sfera emozionale e questa sfera emozionale tende a nutrirsi di emozioni. Quindi o tu sei in grado di dare emozioni, diciamo, alla tua parte emotiva, o tu sei in grado di dare emozioni positive alla tua parte emotiva, oppure se non sei in grado di dare emozioni positive alla tua parte emotiva, la parte emotiva si praticamente prenderà le emozioni negative. E le emozioni negative quali sono? Beh, le emozioni negative sono il rifiuto, l'abbandono, la disistima, il timore di essere giudicati negativamente, la paura di essere, la vergogna, la paura di essere comparati in modo fallimentare, la paura di essere condizionati, la paura di essere rifiutati, insomma, i sensi di colpa. Tutte queste qua sono dei serbatoi di emozioni negative. È ovvio che se tu temi l'abbandono non potrai mai attrarre un uomo, non potrai mai essere attraente, perché, come dire, pur di non venire abbandonata, sarai pronta a prostrarti, sarai pronta a fare delle cose che normalmente non faresti. E questo è un altro concetto fondamentale, perché se tu inizi a fare delle cose che normalmente non faresti, praticamente ti coinvolge ancora di più, no? Leggetevi il piccolo principe. Noi se diamo eccessivamente attenzione a una persona, ci innamoriamo, non ci innamoriamo di quello che non prendiamo neanche in considerazione, soprattutto a livello mentale, no? Perché poi agisce la fantasia, no? Una donna, magari un po' in là con gli anni, over 40, over 50, insomma, quando incontra un uomo che apparentemente, diciamo, potrebbe andare bene, ma non lo sa che va bene, questo è il vero concetto di fondo. È come le persone affamate che, come dire, trovano buoni topi morti, per dire. Nella Prima Guerra Mondiale dicevano che facevano festa nelle trincee quando riuscivano a catturare un topo di quello che se lo mangiavano, perché lì era fame. E questo è, non so, nelle Ande si sono addirittura, si sono mangiati tra di loro, no? Per dire. Perché quando c'è, subentra un istinto di sopravvivenza, è ovvio, quando subentra l'istinto di sopravvivenza, è ovvio che poi con l'istinto di sopravvivenza uno è disposto a fare delle cose, a fare delle cose che normalmente non farebbe. E quindi noi dobbiamo imparare a nutrirci noi di emozioni, non accettare le emozioni delle altre persone. Questo è un punto base, è un punto fondamentale. Noi non possiamo, diciamo, diventare succubi e diventare prigionieri delle emozioni degli altri. E non dobbiamo dare neanche attenzione alle altre persone, farsi le paranoie, no? Perché voi vi fate le paranoie. Uh, la mia ex da un anno e mezzo volevo vedere se mi accetta, non mi accetta. State a pensare le paranoie. Questi pensieri che voi utilizzate sono nefasti, sono negativi. Dobbiamo fare le cose in modo irriverente. Cioè mi interessa una, gli mando un messaggio. Non mi interessa, non glielo mando. Che è la mia ex che è passato un anno, un mese, devo fare tutto con distacco del risultato. Devo fottermene e basta. Non devo stare lì a dedicare energia a una persona, chissà cosa penserà, chissà se avrà ancora lancore verso di me, chissà se mi amerà, chissà se non mi amerà. Tutti questi pensieri sono pensieri spazzatura. Sono pensieri spazzatura perché tu dai potere a quella persona, pensandola. Adesso non dico di diventare, come dire, cinico che incontri una e dici senti se vuoi scopare andiamo, se no fuori dai coglioni, no? Per dire. Però dobbiamo imparare sia per i maschi che per le donne a diventare irriverenti. Cioè, come dire, non dobbiamo dare valore, tanto valore agli altre persone se non impariamo prima a dare valore a noi stessi. Se uno pensa, spero di piacerli, spero qua, spero là, ma sperare è un cazzo. Cioè, devi avere sicurezza in te stesso, ti presenti e poi se la cosa va, va. Se non va, fuori dai coglioni, fuori dai coglioni avanti un altro. E questo è un qualcosa che dobbiamo tenere presente. Non dobbiamo stare lì a farci paranoie, paturnie, riuscirò, non riuscirò, perché poi eliminiamo potere agli altri persone. Andiamo a creare un vitello dorato, andiamo a creare una situazione che non si può neanche poi più controllare, non si può più neanche gestire. Quindi la cosa importante non è tanto le cose che facciamo, ma è l'atteggiamento che abbiamo quando facciamo una certa cosa. Cioè, la seduzione è fondamentalmente un gioco. E questo dobbiamo capirlo e dobbiamo giocare il gioco della seduzione. Se vuoi sedurre, se vuoi far innamorare, gioca il gioco della seduzione. Nel frattempo, iscriviti al canale, seguimi su Instagram, Massimo Terramasco Ufficiale, su TikTok e su tutti i miei canali YouTube, Cara Malga Shona, iscriviti a tutti i miei canali YouTube e ci vediamo al prossimo video, ovviamente.